Un saluto da Giaconora a tutti gli amici di iPad Social. Sono appena iniziati i play-off nel campionato di basket ed è il momento più atteso, più emozionante della stagione. Il calcio non ha i play-off e i play-out per quanto riguarda la Serie A, ma vi posso dire, secondo una fonte molto ben informata, che si sta lavorando per avervi molto, molto presto. Questo perché vengono chiesti espressamente dalle televisioni al fine di rendere più spettacolare ed emozionante il campionato e quindi più appetibile e vendibile il prodotto. Il calcio è sempre rimasto ingessato nelle proprie convinzioni, appunto l'assenza del play-off, l'assenza del tempo effettivo. Il VAR è arrivato molto dopo l'instant replay del basket, però il play-off è richiesto dalle televisioni e le televisioni comandano, quindi aspettateveli molto presto.